Con l'errore di Re Italiano R, l'errore del favorito, l'errore di Re Italiano R che non si rimette al largo di tutti e così il Gran Premio San Paolo cambia volto con la partenza e Roger Prav che cerca di andare davanti a Rosemary Garra, Antonio Greppi che prende giusta la partenza, poi hanno sbagliato anche il 12 di Ronaldo SM e anche il 6 di Revillon, così Roger Prav che guida nei confronti di Rosemary Garra, poi è partito bene il numero 10 Rincopo e Jet, i cavalli dopo 400 metri con Rosemary Garra che dopo il 27.3 si ripresenta ai fianchi di Roger Prav, Mario Minopoli Junior che vuole la testa della corsa, ha spostato anche Rufoli lunga in schiena al numero 3 Roxambar rimasta scoperta, mentre Re Italiano R viaggia in mezzo alla pista e cerca di recuperare dopo 600 in 42.6 in mezzo alla pista c'è anche Riboy K, Rosemary Garra che adesso guida Roxambar a largo, Riboy K che vorrebbe aggirarla per andare su Rosemary Garra dopo 57.4 per i primi 800 metri, non riesce Cicognani a scavalcare Minucci, rimane in terza, adesso sbaglia però Roxambar, così Riboy K va a tiro di Rosemary Garra, schiena Re Italiano che ha cercato di recuperare il chilometro che va via in 1.12.2 con Rosemary Garra che adesso al suo fianco Riboy K lungo la corda Roger Prav, poi Rincopo e Jet che vuole la destra libera, poi raggio di luce con i cavalli che attaccano l'ultima curva, Rosemary Garra e Riboy K dopo 14.3 sulla dirittura apposta di tribune, Riboy K sulle curve si aiuta ma è sempre lì, Roger Prav in schiena, Rincopo e Jet che cerca di sparare, poi vengono anche gli altri in mezzo alla pista ma entra al comando il Gran Premio San Paolo nel vivo con Rosemary Garra davanti, Riboy K al suo esterno, di dentro Roger Prav deve stringere i denti, Rosemary Garra di dentro Roger Prav, all'esterno Riboy che torna, Rosemary Garra che stanca, Roger Prav che lo rimonta sul palo, i due sono vicini ma è Roger Prav che vince il Gran Premio San Paolo. Roger Prav e Antonio Greppi che le azzecca tutte, parte, scavalca Rosemary Garra e poi da strada e in open stretch riesce a batterla con Mario Minopoli, junior alla comando che cerca la difesa ma Roger Prav lo rimonta palmo a palmo e poi nella retta d'arrivo in 14.5 riesce a batterla di misura. La vittoria per il numero due, Roger Prav, Antonio Greppi con questo figlio di Dagarra Pid della Lainate e Carlo Belladonna, vecchia conoscenza del San Paolo che vanno a vincere il Gran Premio San Paolo 2014, secondo comunque positivo Rosemary Garra, bene anche Riboy K al terzo posto al suo debutto classico, quarta un'ottima Romina Danzola, la carta migliore con Davide Cangiano, la carta migliore del campo, la vittoria del San Paolo 2014, Roger Prav 13.08 la sua quota, 1.12.6 il tempo al chilometro e questo qui, il vincitore del Gran Premio San Paolo. È tutto.